un saluto ben ritrovati in compagnia di due cari amici come mirko palo ciao mirko andrea ed erico silvestrin ben ritrovato enrico andrea buongiorno buongiorno a tutti allora ovviamente parliamo del nostro milan che nostro pane quotidiano con l'idea ovviamente di di provare ad approfondire tante tante tematiche sentendo anche barri diversi rispetto al mio qui su milanello vi ricordo come sempre di commentare numerosi di iscrivervi e di lasciare un bel like iscrivetevi ovviamente se avete ancora fatto ai canali anche di mirko e di enrico in cui si parla quotidianamente del nostro caro mato milan maggio deludente per via dei risultati giugno che ormai volge al termine deludente per via di un mercato spento mirko lo diciamo così ogni tanto ci sentiamo tu l'altro giorno mi hai detto ma tu che idea ti sei fatto di questo immobilismo sei un po preoccupato tu mirko allora guarda andrea per dire la verità sono preoccupato sì però non riesco a capire cioè come come possibile non voglio credere che il milan sia veramente alla deriva e che stia veramente aspettando il corso degli eventi per capire chi andare a prendere cioè io nel mio essere ottimista per natura mi immagino che milan abbia comunque una lista di obiettivi zirc ze a parte e che intanto mirko perdonami comunico al regista che può anche mettere in pole position chi sta parlando hai ragione cattivo regista vabbè comunque no io dicevo che secondo me mi piacerebbe pensare che il milan in realtà abbia le idee chiare che non sta facendo passare nulla un po come aveva fatto con fonseca fino a due tre giorni prima dell'annuncio e che in realtà sono talmente bravi quello che mi piace essere ottimista pensare sono talmente bravi che non fanno passare nulla anche se ho paura che la realtà dei fatti è tutt'altra cioè che stanno aspettando zirc ze si e poi se non arriva zirc ze si troveranno un po a vedere chi ci sarà sul mercato e vedere che cosa succederà spero di no perché sarebbe veramente allucinante ridursi come l'anno scorso insomma enrico tu hai più preoccupazione o più speranza cioè c'è l'idea che magari partiamo tutti delusi però poi tra due mesi ci svegliamo ci guardiamo indietro diciamo ah va che bel mercato che bella squadra andiamo a lottare ma io penso che lo schema sia ormai uno schema che dovremmo conoscere lo schema è quello di investire una cifra intorno ai 40 milioni comunque piuttosto bassa e poi di ampliare il mercato con le cessioni quindi bisogna vedere quale sarà la mossa d'apertura del mercato se sarà una cessione come è stata l'anno scorso come quella di tonali che di fatto ha finanziato il 60 70 per cento del mercato se vedremo che cosa faranno io so benissimo che quest'anno le urgenze le impellenze siano diverse ma già è possibile vedere come col ritardo si siano mossi questo è un dato di fatto cioè non il fatto di non aver sfruttato l'anno di vantaggio per me potrebbe anche essere di più perché io trovo che già l'anno scorso aver puntato su oliver girù sia stata un po una follia puntare come su di lui come prima punta insomma un giocatore di quell'età e non non essere ricorsi al mercato per prendere una punta che fosse una punta reale insomma già già quella lì secondo me è stato è stato un azzardo c'era un anno di vantaggio e siamo qui che non fondamentalmente siamo lì a guardare un ammazzo di carte quando non sappiamo neanche quali sono quelle che hanno in mano loro quindi non lo so si potrebbe fare anche un buon mercato ma dipende dalla cessione dipende da quanti soldi entrano dalla cessione e dipende da chi fa il mercato quindi se sono lì scorso Enrico però l'anno scorso c'è è dovuto rifare un centrocampo e quindi che avevi tutti i prestiti giocatori non tuoi quindi la cessione ci sta avevi un bilancio a mettere a posto quest'anno a giugno chiudono il bilancio a doppia cifra in attivo cioè se investono solo 40 50 milioni e non hanno io perché mi piace pensare che sappiano già perché se non ce l'hai è una cosa gravissima passi l'anno scorso che hai fatto la figura con Taremi che ti sei ridotto all'ultimo con le commissioni eccetera ma quest'anno che magari era il tuo anno d'esordio dove prendevi delle decisioni così ma quest'anno con un anno di esperienza con Ibrahimovi cioè se fai veramente una roba del genere e non hai una lista di giocatori cioè veramente siamo in mano a dilettante allo sbaraglio proprio però sul budget va detto che effettivamente lo schema consolidato è questo c'è 40 45 milioni di euro e il resto te lo devi portare a casa quest'anno portiamo a casa i 25 circa di decetelare vedremo da altre situazioni però è chiaro che tutti ci aspettiamo una cessione più o meno il lustre per me il miglior colpo del bilan sarebbe confermare lea o menian e theo cioè i tre top player anche se non sempre lo dimostrano sul resto io confermerei anche tomori perché mi sembra più forte dietro però lui ben naser ci sono situazioni dai quali si possono ricavare dei soldi tu Enrico chi proprio non cederesti o meglio te la giro chi tra questi magari cederesti un po più a cuor leggero per sacrificare e fare il mercato finanziandolo così allora sono d'accordo con te che non si possano tenere tutti cioè che devi fare delle scelte poi bisogna vedere quali giocatori sono più remunerativi parto anche dal presupposto che normalmente quello che ci ha sempre raccontato la verità è stato scaroni che ci piaccia o meno e quindi il suo desiderio di vendere leao impacchettato fondamentalmente mi fa pensare che se dovesse arrivare un'offerta per leao lo andrebbero a vendere per me è il sacrificabile per me leao è il sacrificabile io non andrei a toccare megnon e non andrei a toccare perché comunque il portiere per quanto sia un ruolo come vedi puoi anche coprirlo con per esempio un sommer ha fatto un ottimo un'ottima annata non è un portiere di primissimo livello però è bravo è un portiere indubbiamente bravo e costa poco e ti rende tantissimo però sai noi abbiamo comunque già passato l'indebolimento tra virgolette con donna rum abbiamo trovato un ottimo portiere che non ci ha di fatto indeboliti perché ci ha forse anche rinforzati che è stato megnon e quest'anno non andrei a rischiare io non sarei andato a prendere un altro portiere quindi io sarei per la conferma di di megnon convinto visto anche l'europeo che sappia fare benissimo e non andrei ovviamente a toccare teo hernandez che per me è proprio l'intoccabile cioè per me è proprio il giocatore che non va toccato perché non ha un sostituto e è inevitabile indebolirsi perché non c'è un non ce n'è un altro che è più forte o dello stesso livello quindi lì ti indebolisci per forza sulle aosi possono aprire tanti discorsi perché hai pulisic che puoi mettere nella sua corsia naturale perché comunque avresti anche ocafor e saresti coperto come come sostituto potresti andare a operare a quel punto sull'altra sull'altra fascia potresti andare a fare delle operazioni diverse comunque avresti ciucueze dovresti scegliere un partner di ciucueze lavorare finalmente su un giocatore che possa giocare dietro le punte di un certo livello secondo me puoi fare un upgrade sull'oftus chic e sono d'accordo a centrocampo per quanto benasser sia il nostro mediano dai piedi migliori però in fase per la copertura e anche per la tenuta fisica non è proprio una garanzia quindi lì secondo me devi fare per forza l'investimento e andrei a cedere forse lui forse ad lì qualcosa io andrei lì a fare bisogna anche vedere quanti giocatori di bandiera vengono comprati perché pulisic e musa sono giocatori statunitensi che servono al progetto e musa secondo me che potrebbe comodamente essere ceduto già dopo un anno onestamente non credo che lo andranno che lo andranno a rimuovere quindi l'anno scorso hanno preso una marea di mezzali di doppioni cioè hanno fatto tanto mercato ma tanto mercato fatto un po ecco non non esattamente come un ds farebbe è stato fatto un mercato alla ho soldi da spendere prendo su indicazioni ma per me il capo scout non può fare il non può dare le indicazioni di mercato per come la vedo io cioè serve o no serve serve la parte sportiva che noi non abbiamo e questo è il grande mistero secondo me intorno al milano si è mancato un po la visione organica del mercato perché magari anche le operazioni singole sono state corrette però poi nell'insieme qualcosa è mancato io e poi vengo da mirko invece lea me lo terrei nonostante tutto nonostante mi stia facendo arrabbiare anche in questo europeo con due gialli per simulazione sarà la prossima partita però per me è il potenziale fenomeno che può trascinare il minan cioè a oggi se il minano la possibilità prossimo anno di competere per me dipende dalle au e quindi amare in cuore e mi priverei se costretto a cedere uno dei tre ma preferirei preferirei cedere ben al serra piuttosto che tomori io mi priverei di megnan perché anche lui spesso come ben al serra e ferma i box perché il portiero ruolo che si può sostituire molto a mano in cuore tu mirko da che parte stai allora guarda ti dico una roba sono d'accordo con te su megnan negli ultimi tre anni l'ha fatto uno fuori per infortunio praticamente se fai il conto di tutti gli infortuni però ti dico anche questo sulle au allora le au lo tengo se mi accontento di quello che è adesso punto secondo me non esplode più di così non fa cioè lui è quel giocatore che in serie a fa la differenza in quel giocatore che se è in buona se sotto la buona buona stella magari ti fa il fenomeno ma tutte le altre volte ti fa il giocatore indolente penzoloni che che traccheggia che ti dà fastidio proprio a vedere secondo me se ci accontentiamo e se ci rendiamo conto che le au è questa roba qui e che non diventerà cr7 allora le au lo teniamo diciamo per la serie a va bene così è per il livello della serie a è un giocatore una spanna sopra gli altri che comunque siamo siamo disposti ad accettare i suoi momenti di no che sono frequenti ma se invece teniamo le au con la speranza che ci diventi qualcosa di più considerando che lui non vive per il calcio cioè lui il calcio si gioca ma poi anche la musica cioè non è focalizzato solo su diventare un campione come tanti altri secondo me rischiamo di rimanere illusi come siamo rimasti il usi su balotelli come ci si aspettava che cassano da un momento all'altro avrebbe messo la testa a posto secondo me fa parte della cerchia di quei giocatori che alla fine non esploderanno mai questo milan e musica mi viene in mente le au mi viene in mente anche enrico ti chiedo la musica può essere una distrazione per le au non che forse mette tutto nel milan no credo quella sia più una cattiveria del tifoso che pensa che possa essere una distrazione credo che sia nulla più che un hobby il problema e qui sono d'accordo con mirco che secondo me la fase di crescita di le au sembra essere ferma cioè non sembra essere un giocatore allora sicuramente potrebbe fare sicuramente lui potrebbe fare molto di più però io temo che non abbia proprio in sé la possibilità quella determinazione quella si è la ferocia che gli manca lui non ha quella che quella cattiveria lo vedi spesso in lui ha il piacere del gioco questo è indubbio è uno che gode a giocare si vede però non ha ferocia la ferocia del campione di quello che da solo ti risolve la partita oppure davanti alla porta quell'istinto killer non ce l'ha lui e questo secondo me è quello che gli rema che gli rema contro non ha leadership quindi non si carica la squadra è uno che va insieme alla squadra se la squadra va male lui va male se la squadra va bene allora lui va bene ma non è lui che determina la squadra che possa andare bene o male non so se mi spiego ti arrivano 120 milioni e ti assicuro che sti 120 milioni li rimettiamo tutti nel mercato voi cosa fareste? no ma io penso che il prezzo sia troppo alto per lui cioè io non credo che Leao abbia quello cioè per me per me il giocatore vale un un'ottantina di milioni credo che questa sia la quotazione forse più giusta di Leao ma secondo me non glieli dà nessuno hai venduto tonali a 80 Enrico non puoi vendere Leao 80 sono pochi ma io credo che sia sì ma non è quello allora il mercato non si fa sulla valutazione che fai tu si fa sul valore che il mercato riconosce il giocatore e infatti offerte non ne sono arrivate clausole da pagare non ci sono state ed è fermo lì l'unico mercato interessato era quello arabo che a lui ovviamente non interessa perché appunto lui gode nel giocare a pallone e vuole giocare a pallone quindi avrà anche voglia di dimostrare qualcosa ma vedi non è bastata la 10 è vero bisogna vedere con probabilmente il 4-3-3 di Fonseca che cosa succederà bisogna vedere che cosa farà Fonseca forse ecco un altro anno io me lo terrei io fondamentalmente ti dico io non venderei nessuno della nostra di quelli che non sono esuberi di quelli che non sono doppioni andrei a toccare lì dove serve cioè andrei a vendere ok abbiamo Adli, Musa, abbiamo una serie di doppioni di giocatori che non si sa che cosa debbano fare cioè lì devi sfoltire abbiamo troppi centrali per la per una qualità piuttosto bassa secondo me dei nostri centrali quindi lì forse vai a vendere uno ma poi devi far entrare un altro magari entrare con dei titolari sulla fascia destra devi mettere a posto quindi magari anche lì devi gestire oltre proprio agli esuberi che abbiamo da Ballotureo Righi passando per altri giocatori ma farei un mercato cioè noi avremmo le finanze per fare il mercato ce l'abbiamo non abbiamo necessità di vendere puoi ricavarti quei soldi in più dalla cessione non so appunto di questi esuberi dalla cessione di questi giocatori che vuoi mettere sul mercato non hai bisogno di toccare quelli forti io le aulo terrei cioè noi spesso ci mettiamo in un angolo pensando che dobbiamo per forza vendere qualcuno e allora iniziamo a ragionare bene ma visto che dobbiamo vendere qualcuno chi sarà ma questo è un esercizio che facciamo noi e un po è che ci portano a farlo è la dirigenza che negli ultimi anni ci ha portato a fare questo ragionamento qua esatto cioè quindi noi stiamo qui ad accettare il fatto che che questi signori possano vendere qualcuno quando non serve l'ha detto anche Ibra quindi almeno mi aspetto della coerenza cioè quest'anno la coerenza passa per le cessioni e passa per i soldi da investire sul mercato al cento per cento le frasi su cui Ibra si è esposto e se se per loro gli utili sono solo quelli del champion se non calcolano plus valenze o cessioni non ci sono soldi non so se rendo l'idea l'anno calcolate le cessioni non so vediamo ma è sì diciamo che delle parole di Ibra ci credono in pochi al momento e aspettiamo i fatti belle parole ma i fatti noi temiamo tutti una cessione io poi ripeto spero che non sia della prima categoria ma della seconda categoria su Leao dico che nell'anno dello scudetto gli ultimi quattro mesi è vero che il Milan funzionava ma il Milan funzionava anche perché avevo un Leao straripante e se avevamo Pulisic per il quale stravedo e su questo e l'altra parte lo scudetto secondo me non l'avremmo vinto quindi speriamo io spero forse che è andato a trovarlo non so se è stata la scelta giusta la sua prima mossa da allenatore del Milan però speriamo che possa farlo svoltare che magari dopo un europeo fin qui deludente possa mettersi ben dritto verso il mondo rosso nero detto questo su zirze vi chiedo che sensazioni avete se arriva oppure no e poi eventualmente se salta chi vorreste al suo posto Mirko parto da te allora guarda sempre per il discorso che io vedo in Milan tante volte con gli occhi a cuoricino mi piacerebbe pensare che zirze e teo sia una specie di similitudine con malvini e ibraimovic quindi io mi auguro che ibraimovic abbia parlato con zirze allo stesso modo come teo ha parlato con malvini ha parlato con teo per convincero insomma spero che ibraimovic abbia messo l'impronta abbia parlato con lui abbia fatto capire a zirze come possa essere lui centrale nel progetto del milan e che ci sia stata una specie di accordo verbale o comunque una promessa di matrimonio insomma non dovesse come se salta chi vuoi se salta guarda allora quando mi dicevano meglio zirze o jokeres per esempio io ti dicevo no tutta la vita o sesco ti dicevo no tutta la vita sesco sono giocatori che vere punte che ti fanno tanti gol però poi mi è stato raccontato che zirze è uno che ti fa il gioco che ti fa le segnare tanto pulisi che le ha o che ricorda uno dei primissimi ibraimovic sono stato convinto è chiaro che se dovesse saltare vorrei una vera punta non un quei due nomi che hai fatto non sono fattibile per i nostri parametri quindi pensaci un attimo vado da enrico poi intorno a te vi dico anche la mia non so su zirze ho una sensazione negativa onestamente perché c'è una parte di me che pensa che la dirigenza possa provare un colpo che secondo me è fallimentare già solo pensarci cioè fare scadere la clausola andarlo a trattare a meno di 40 però io credo che questa sia un'operazione fallimentare sulla nascita cioè sia un'operazione perdente sulla nascita credo che avremo possibilità di prendere zirze se nessun altro se lo va a prendere se non c'è uno united che se lo prende se non c'è un'altra squadra che se lo prende non credo che saremo noi a fare non mi sembra il milan un e il mercato del milan uno di prime mosse e quindi dipende c'è sta lì paga la clausola che ok c'è appena appena si attiva pagala che fai le paghi commissione commissioni non c'è non puoi fare giovanna d'arco da solo e no o fai cordata o il mercato è questo e quindi scegli scegli che cosa vuoi fare a parte che un è una moralità moralismo che considero provenire diciamo da un luogo di forte amoralità quindi questo discorso improvviso della morale intorno alle commissioni mi sembra mi sembra strano mi sembra un po come quando gli dicono che nella seriata è uno vincere tutti a turno che sono per me delle delle fesserie ci sono frasi che dovrebbe dire un gravina così come quella sulle commissioni dovrebbe dirla infantino dovrebbe dirlo ceferin ma sicuramente non non il presidente del milan cioè anche perché hai avuto un anno per per trattare il giocatore ha avuto comunque mesi per trattare il giocatore per capire che esistevano non è che ti sveglia l'improvviso nel mondo degli adulti e scopri che ci sono le commissioni e quindi la battaglia se la puoi fare la devi fare da molto prima se vuoi arrivare a un mercato senza commissioni per come la vedo io quindi non lo so ho una brutta sensazione io penso che arriverà un un centravanti tra quelli che resteranno e credo che tra quelli che resteranno arriverà quello con una cifra intorno ai 20 milioni 25 milioni questa è questa è la mia previsione non mi viene non mi sembra di pensare ad altro come è ma mirco però hai visto che si stanno accasando tutti sono finiti e cioè quelli da 40 50 disponibili le è un po il è la bizzarria di questo mercato del milan dove tu hai avuto una serie di allenatori disponibili tutti insieme e hai preso uno fuori dal mazzo e hai avuto una serie di attaccanti tutti disponibili insieme e probabilmente andranno a prendere uno fuori dal mazzo io io voglio pensare che alla fine zirzi arriverà non possono non prenderlo sarebbe l'ennesimo capitolo imbarazzante quindi io resto fiducioso dovesse saltare andrei sinceramente l'ucraino piuttosto che il messicano non mi convincono io andrei su un usato sicuro come alvaro morata oppure come lukaku andando ovviamente un po in eccesso per quanto riguarda l'ingaggio detto questo una notizia importante attenzione alla pista adrian rapio se esce ben nasser con il decreto crescita crescita che si può ancora utilizzare per rapio per altri due anni il milan prova a prendere rapio bisogna sperare che non vada altrove vi chiedo un parere ma aggiungo anche un'altra cosa fatemi il nome del giocatore che magari anche non ha costato o ha costato al di là del discorso attaccante vi piacerebbe vedere con la maglia del mina io ne ho parlato ieri tra poco vi rifaccio il nome se non avete ancora visto il video male andate a rimediare enrico è uno l'ha preso la juve e l'altro forse lo prende anch'esso la juve che è turam e ti dico qual è il mio allora un altro che forse prende la juve che calafiori per me lasciare di calafiori sarebbe un è un peccato lavoroso è italiano 22 anni è forte piede mancino come vuoi e personalità è bravo anche con i piedi tra la juve e il bologna non c'è ancora l'accordo e non trovarti sarebbe un delitto lo dovevamo prendere già l'anno scorso è stato un delitto anche lì vedi tu l'anno scorso lo dovevi prendere hai preso pellegrino cioè il è questo il discorso guarda enrico cioè loro l'hanno detto chiaramente sugli italiani fanno fatica ad andarci cioè dicevano 25 milioni per un italiano perché fa due partite decenti loro sono 4 milioni 5 milioni allora hanno questa non li vedo italiani non lo so no non li vede cioè io sono molto più pragmatico cioè più non li vedono loro non non fiutano affari non fanno questo non abbiamo una dirigenza sportiva non non li vedono non non capiscono non non è il loro mondo mirko tu che che sogno hai non sotto l'albero di natale ma sotto l'ombrellone ma guarda se io speravo venisse con te già solo perché mi ero regustato l'idea di vedere buongiorno lì dietro onestamente cioè se tu devi prendere un giocatore che ti faccia svoltare in difesa mi sarebbe piaciuto vedere lui costa tanto cairo è difficile andarci a trattare l'attaccante che guarda non so che cosa dirti io l'anno scorso ti avrei detto lukaku anch'io tutta la vita poi sai inizia a passare il tempo insomma un altro anno insomma non ci credo più che possa arrivare al milan ma proprio quindi me lo sono un po' levato dalla testa sul discorso dell'ucraino sai mi ricorda tanto sceva e quindi quel quel parco è quello non so che bastasse quello però mi voglio allacciare sta roba qua poi detto questo poi magari ti vanno a prendere denkei del cerco il bruge cioè nel senso un giocatore che hanno visto loro che costa 15 milioni per caratteristiche può andare bene o che ne so cioè purtroppo i nomi sotto i riflettori vedo che fanno difficoltà a prenderli non puoi non prendere zzz davvero sarebbe sarebbe scandaloso però siamo quasi in futura dimmi erico no dico andrea però occhio perché loro sono sempre bravi nella narrazione nella narrazione non avranno preso zzz per il per la moralità del delle delle commissioni cioè è tutto la scusa e tra l'altro guarda quest'anno loro avrebbero preso il centravanti dell'ill se non fosse costato 40 50 milioni punto semplicemente era troppo caro altrimenti avrebbe un attaccante così dai sennò era troppo facile cioè ti ha giocato per tanti anni comodo sa come gioca e tutto anche io lo pensavo detto alla fine arriverà a giornata comunque c'è anche la contro narrazione ricco sì ovvero ovvero chi credo noi tre presenti ad esempio ecco non non dispensiamo quello che che ci arriva o che qualcuno vuol far arrivare ma cerchiamo di raccontare quello che effettivamente ognuno può credere a quello che vuole però mi sembra che nel frattempo la narrazione abbia perso qualche colpo ecco mi piace pensare così ricordi andrea che c'erano da ragazzini forse tu no forse voi no perché io sono più più vecchio me lo ricordo c'erano dei pupazzi che se tu li facevi gli devi una botta tornavano sempre in piedi si chiamavano proprio così sempre in piedi la nostra società è esattamente l'equivalente di un sempre in piedi perché avranno lo stadio sempre pieno avranno il merchandising venduto anzi ci sarà una progressiva sostituzione del tifo che invece sarà sconsolato e abbandonerà lentamente lo stadio chi lo farà sostituito dai tifosi della domenica gli occasionali turisti eccetera e questo fa solo il gioco loro quindi scusami non voglio interrompere però questo noi stiamo facendo un processo alle intenzioni no mettiamo caso che tutti e tre ci dovessimo sbagliare e loro ad agosto fanno una squadra che ne so ti vanno a prendere il mediano che è più forte di cross come percentuale di passaggi riusciti non lo so ti vanno a pescare sai i giocatori così che non e ti fanno un campionato stratosferico poi cosa facciamo cioè siamo tu qua a chiedere scusa a una società che non non fai manifesti ma che poi in realtà è concreta non lo so io non onestamente non coltivo la tua stessa speranza perché credo che un mercato abbia dei dei pezzi pregiati e noi stiamo schivando abilmente tutti i pezzi i pezzi pregiati se poi vuoi se poi loro reinventando la ruota del calcio reinventandola completamente così come spesso fanno pensando che appunto si possa fare mercato senza ids senza una parte sportiva competente ma soltanto con ma che si possa fare mercato anche con furlani e moncada e poi arrivi dovessero arrivare a vincere guarda ti direi ok ma nel calcio c'è un fattore importante che la continuità che è quella che noi dovevamo avere all'indomani della vittoria dello scudetto del 22 e non abbiamo avuto perché purtroppo i progetti sono vincenti quando durano vincenti se no sono dei progetti che hanno vinto e basta e c'è una grande differenza soprattutto quando hai visto filotti di vittoria dell'inter filotti di vittoria della juve quando vinci un anno e basta hai visto anche il napoli napoli che ha fallito ha bucato lo scorso anno e voleva fare il filotto sperava di fare il filotto quest'anno torna con la v di vendetta e quest'anno magari poi non vince ma è l'intenzione è quella determinazione quindi vediamo ma costruire un ciclo di vittoria secondo me non si può fare reinventando la ruota è un dato di fatto che il proprietario del milan cardinale prende il milan qui quella famosa foto in piazza duomo era il momento più bello degli ultimi dieci anni e ha portato il milan qui è un dato di fatto quindi doveva restare i fatti non soltanto alle speranze se tra un anno invece commentiamo lo scudetto la seconda stella un milan chiarinato sarei contentissimo di essermi sbagliato e di fare mia colpa oggi purtroppo ho una speranza perché io spero che possa essere così ma si basa su soprattutto sull'amore nei confronti del milan e non purtroppo sui fatti bisogna tifare tifare il milan non i dirigenti e lì dove il business è buono quando tu investi sul calcio fai un business ottimo perché anche se hai un cliente scontento il cliente scontento non ti abbandona mai ecco perché un bel business ragazzi vi ringrazio open bar puntata numero 2 finisce qui ringrazio milco palo grazie a te anche al tuo canale youtube grazie ricco silvestrini iscrivetevi anche sul canale youtube anche siete già tantissimi grazie milco grazie andrea un abbraccio grande alla prossima è stato un piacere commentate numerosi lasciate un like iscrivetevi ciao a tutti a dopo ciao